Settimana decisamente scura quella vissuta dagli ex allenatori dell'Avellino, a cominciare dalla scorsa giornata di campionato. Due ex tecnici biancoverdi hanno perso la seduta ed un altro è a forte rischio nella prossima giornata, ma andiamo con ordine. Domenica è stata la volta di Giovanni Bucaro. L'allenatore siciliano, che ha guidato la corsa dei Lupi verso la Serie C, è caduto sotto i colpi della Cavese. Dopo la sconfitta esterna del suo bisceglie per 3-1 contro l'ultima della classe, la diligenza lo ha silurato, preferendogli il locale Papagni. Stesso destino per Eziolino Capuano, esonerato nella serata di ieri dal Potenza. Il tecnico paga uno score negativo con ben 6 sconfitte nelle ultime 9 gare di campionato, l'ultima per 1-0 rimediata contro la Casertana. Per la sostituzione di Capuano, il Potenza ha 17 punti in classifica in piena zona play-out, pensa Giuseppe Sannino, anche se non è da escludere a priori il ritorno di somma. Chi si sente infine scricchiorare la panchina sotto i piedi, anche Gaetano Auteri, l'esperto tecnico dei Lupi, non è in una condizione facile. A Bari, la compagine pugliese ha raccattato un pareggio contro la Cavese nell'ultima uscita e domani, proprio contro l'Avellino, potrebbe essere messo ancora più in forte difficoltà. Incrocio di destino, dunque, che porteranno Auteri alla gloria o alla polvere, proprio contro la sua amata ex squadra.